Una giornata dedicata alla formazione e alla selezione di agenti per la vendita di una delle aziende bolognesi più giovani e dinamiche che lavorano nel campo dell'energia. Nella veneristica sede di Lumia in via Carracci si è svolto questa mattina un career day molto particolare. Le operazioni di reclutamento e selezione sono state curate da Lavoro Più, agenzia per il lavoro leader a Bologna e in Emilia-Romagna. L'appuntamento, a cui hanno partecipato giovani provenienti da ogni parte d'Italia, si intitola Light for Job. La selezione delle persone che ci rappresentano nella proposizione commerciale è essenziale. Non è facile per niente perché la vendita di energia elettrica è una tematica complicata, motivo per cui in amicizia con Matteo Naldi di Lavoro Più ci siamo immaginati questa bella iniziativa che permettesse in un giorno intero di selezione e di presentazione dell'azienda l'individuazione delle persone che più ci rappresentano e potenzialmente possono diventare i nostri canali vendita migliori sul territorio di Bologna e non solo. Come si fa a stare nel mercato, entrare nel mercato così difficile forse dell'energia per un'azienda che nasce a livello familiare? Bisogna avere molta tenacia, bisogna avere delle caratteristiche che si imparano in famiglia, cioè la tenacia, la pazienza e il non aver paura di sbagliare. Noi siamo circa 200 persone, l'età media circa di 33 anni, io sono il più vecchio, alzo la media, però sono proprio queste. Noi proviamo all'interno di quello che facciamo, nella modalità con cui interagiamo tra di noi, di diffondere questa attitudine. Il fatto di avere tenacia, di tenere duro in un contesto di mercato complicatissimo, in cui non siamo per nulla aiutati dal mondo regolatorio, che delle due non è pro-liberalizzazione ma contro, e quindi bisogna avere un'attitudine veramente orientata al rischio, al non aver paura di sbagliare e alla tenacia. Grazie a tutti.